Eccoci, finalmente ci siamo, il momento che tutti noi stavamo aspettando è arrivato, il 2020 è finito! Non mi resta che dire buon anno a tutti e benvenuti nel 2021, se solo ripenso che un anno fa in questo momento ero a Tokyo in coda per entrare al Tempio Meiji di Shinjuku con l'intento di chiedere una benedizione... Eh, scusate, una comunicazione dalla regia? Sì, devo leggere questo? Siamo ancora nel 2020, è un reboot. Cosa?